Porta caricatori molle Cordura 1000N Questo porta caricatori è costruito in maniera molto solida Cordura molto resistente e spessa Interamente cucito, doppia cucitura sul suo perimetrale Attacchi molle, tre bande orizzontali Doppio bottone automatico Questi attacchi sono adatti sia da cinturone che da gile tattico E da spallaccio Apertura verde Verico molto solido e resistente Ritenzione con elastico passante Elastico verde molto ben fatto Fuori autosvotanti alla sua base, metallici, occhiellati E la particolarità qual è? Che la parte superiore Vedete questa doppia fettuccia Questa si può modificare Ossia possiamo immettere dei caricatori al suo interno Ad esempio prendiamo un caricatore per AK-47 E chiuderlo in questa maniera A copertura totale Oppure possiamo trasformarlo All'apertura rapida Prendiamo sempre il solito caricatore della AK-47 Ecco qua Questo sarà più Questo è più protettivo Ma più laboriosa All'apertura In quest'altra maniera abbiamo un'apertura più rapida La capienza è notevole Abbiamo fatto delle prove e abbiamo visto che Al suo interno possiamo mettere i caricatori Della AK Uno per lato Oppure due caricatori colt Ne immettiamo uno più lungo e uno più corto Proprio per far vedere la capienza effettiva Anche questi vanno facevolmente Tanto il lungo Tanto il corto E' anche possibile immettere caricatori maxi maggiorati Qui abbiamo caricatori A1200 della AK E questo porta caricatori Riesce a contenerli senza particolari problemi In questo caso ovviamente non potremo utilizzare L'apertura di tipo rapido Ma solo questa copertura totale In quanto questo parebbe troppo spessore